Camera di Commercio di Arezzo, un premio importante, il tema è sempre quello della alternanza scuola-lavoro. Alcuni istituti della provincia di Arezzo e di Arezzo città ovviamente sono stati premiati questa mattina da Camera di Commercio per dei video realizzati tra le scuole premiate, l'Isis Benedetto Varchi di Montevarchi, l'Isis Valdarno di San Giovanni Valdarno ed il liceo Colonna di Arezzo. Segretario Generale Salvini, ha le la parola. Sì, noi stamattina abbiamo premiato sei istituti scolastici della provincia che hanno collaborato con la Camera di Commercio a realizzare questi progetti di alternanza scuola-lavoro. Sono progetti concreti che passano da una selezione accurata delle imprese che ospitano i ragazzi e questa alternanza con questo progetto si sviluppa con realizzazioni concrete. Quindi un esempio positivo, straordinariamente positivo, di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. Queste scuole sono state premiate per aver realizzato nelle aziende dove i ragazzi hanno fatto la loro esperienza di alternanza dei video che hanno plasticamente rappresentato questa esperienza. Sono dei video straordinari che sono stati considerati e premiati anche a Roma nell'ambito di un concorso nazionale. Quindi ritenevamo opportuno fare un passaggio ulteriore anche su Arezzo per dare riconoscimento ai ragazzi, ai professori, ai presidi e alle aziende che hanno virtuosamente collaborato per accompagnare questi ragazzi verso il mondo del lavoro. Abbiamo sempre creduto profondamente nell'alternanza scuola-lavoro. Non è direi un traguardo ma è una tappa di un lungo percorso, di un lungo cammino che ovviamente teoricamente non terminerà mai perché le scuole vanno avanti, i ragazzi vanno avanti. Però è pur sempre all'interno di questo cammino un miglioramento continuo per far sì che non soltanto vengano garantite il numero di ore, sapere essere moltissime. Considerate che abbiamo oltre 9.700 ragazze e ragazzi all'interno della provincia che devono fare dalle 200 alle 400 ore nel corso del triennio. Quindi se moltiplicate le ore sono davvero tantissime ma dobbiamo lavorare non soltanto sul numero delle ore, di garantire di coprire questo numero di ore ma soprattutto sulla qualità delle ore che vengono fatte. Proprio per dare la possibilità massima a tutti quanti di avere la miglior preparazione possibile perché l'indomani possono affrontare nel miglior modo possibile il mondo del lavoro.